Sono Mattias Heinz, accademico corrispondente della Crusca, professore di linguistica italiana a Salisburgo. Dante per me. I riferimenti costanti di uno studioso estero dell'italiano e di cose italiane sono senz'altro Dante, padre della lingua italiana, sommo poeta, autore unico e inimitabile dall'opera d'eccezione, menzione d'obbligo di qualsiasi corso di storia della lingua italiana. Comunque ad un livello, direi, universale di esperienza umana lo vedo ancora più presente, anche a distanza di sette secoli, come precettore di un percorso che va per asfera ad astra, attraverso un viaggio dalle tenebre alla luce, un cammino fortemente impregnato da valori spirituali. E così Dante, che peraltro nella vita personale di esperienze di sofferenza ne ebbe tante, descrive un modello per un'Italia e un mondo intero angosciati, ma non sopraffatti dalle avversità. Il poeta ci delinea la possibilità del passaggio ad un nuovo stato di esistenza, passando da mali che ci avvolgono e in cui tante volte inciampiamo ad una versione migliore di noi stessi, anche come collettività umana. Per me questo si coglie bene dal canto decimo sesto del Purgatorio, all'inizio del terzo girone. Quelli che in vita furono i raccondi, contrariati, propensi alla discordia, ci ricorda lo stato attuale della società, dell'Europa e del mondo, sono sì sempre avvolti da un fumo oscuro e fitto, ma si fanno sentire penitenti, intonando l'Agnus Dei in perfetta sintonia con ogni concordia. C'è speranza di uscire dal buio dalla crisi Purgati. Leggo dal verso 16. Io sentia voci e ciascuna pareva pregar per pace e per misericordia l'Agnel di Dio che le peccata leva. Pur Agnus Dei erano le loro esordia, una parola in tut'era ed un modo, sicché parea tra esse ogni concordia.